Allora, siamo Francesca, Camilla e Lucrezia, ciao a tutti e praticamente devo dire che siamo arrivate qui per caso, in realtà. La serata è molto carina, ci sta piacendo veramente tanto perché la musica è fantastica. Sì, è vero, è veramente fantastica, soltanto che siamo la maggior parte donne, infatti uomini accorrete, cioè ci stanno pochi uomini ma non solo essenziali, ce ne servono di altri. Comunque, volevamo fare gli auguri di Natale a tutti quanti, Merry Christmas, Buon Natale, Buon Natale, un bacione, ciao!